Musica Dirigiamoci verso la nostra prossima destinazione Finiamo ste missioni così il pianeta è vivibile al 100% E non ci si pensa più Poi è meglio anche per la popolazione locale Allora Devo andare di qua Ok l'indicatore è vicino Ah ecco siamo fuori dalla caverna Ok Aspetta eh Scendo Sì Un attimo Sì stavo un attimo guardando la torretta se li abbatteva Ok analizziamo questi rottami Ah ok mi ha neutralizzato Mi ha disattivato Il vai a fare rapporto E quindi ma adesso c'è un nuovo Ah qui vicino Ok esaminiamo sto nascondiglio Allora Aspetta Vado a piedi No dai andiamo col nomad Dovevi dirlo prima però eh Cioè Allora è su di qua Sì Ma questa è la direzione giusta Non saprei Aspetta eh Un attimo Qualche difficoltà Allora Invece se fosse nella caverna Magari Ah no Mi indica su Dove sono arrivato Porca vai No mi indica su Eh purtroppo la Non è chiarissima eh La mappa O meglio Aspetta Prendiamo andare di qua lo stesso Vediamo Ah ecco Magari da qua C'è una stradina Qua c'è una costruzione Forse dall'altra parte Infatti Lì ci sono i robottoni Va bene Sì forse dall'altra parte Ah certo che Ok no forse ci siamo Sì 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 Ero già pronto a sparargli Qua c'è una scena Decision Standing down Chi sei? Chase Gannon Used to be maintenance Look We weren't trying to hurt anyone Just like you said It's why we came back here We didn't want to be outlaws We have family on the Nexus But we didn't think we'd be welcome Tan hasn't been forgiving Not that we deserve it How did you end up like this? What? As exiles? There was no hope You have to understand We thought we were all going to die And when they exiled us We saw it could be worse People praying on their own We couldn't So we head out here And thought maybe I don't know I don't know Pathfinder Mmm You admit you were criminals What choice do we have? Exiled means they kill you if you come back But we couldn't keep doing it We're not pirates We came here to build All we could do was watch Watch you build At least it was something Ok Allora Beh non c'è molto da scegliere Cioè I can't let this continue You know that Pathfinder We're not asking to continue Just We tried All right We tried and fucked it all up Not exactly a nuance defense There isn't one We got scared We did bad things We regret it Maybe we're idiots Maybe we should never have come here But we want to believe There's a way back Mmm Offro la mistia Dovete andarvene Vabbè dai You want a chance? A way back? Tan may not like it But He's not here They'll accept that? Let us try Prodromos isn't in the business Of refusing honest help I'm numb Pathfinder I don't know if there are words Then get to work Esatto Fai rapporto sui trafficanti Va bene Immagino che devo tornare alla base Per fare rapporto No? Esatto Sì Qua Vabbè Allora Poi faremo rapporto Ma visto che siamo già qua Ah Qua c'è un punto di interesse Quello di prima E Allora Attivatore memonico Va bene Allora Andiamo Magari qui Prima Sì c'era un punto di interesse Abbiamo visto Ah Dov'è il nostro Mezzo Eh In basso di Laira Sì Anche se prima Stiamo un attimo su Vediamo C'era anche un altro Punto in zona Ecco lì è il punto di interesse Ma qua Prima di Uh Di scendere Ah però Non ci arrivo lì Mi sa Mi sa che devo per forza scendere Ok Sì lo so che è vicino Eccolo qua Ok Scansione Drone in avaria Va bene Ok Altro Don Per così dire Trovato Ecco Adesso però Non posso poter tornare lì E Quindi Niente Andiamo giù Al punto di interesse Al massimo Poi Ci facciamo un viaggetto Rapido Ok Vediamo un po' Che troviamo qua A parte i robottoni Prima c'era dei robottoni Qui Non ci sono più Non ci sono più Strano Terminale non è attivo Beh Mi sembra strano Altro caso Di nemici Scomparsi Cioè Contenitore Vabbè Iniziamo ad incendiare Vabbè Prendiamo tutto Ok Ce lo dà come completato No Forse c'è qualcos'altro Vabbè Togliamo l'armi Tanto mi sembra che non ci sia nessuno Ah forse qua Devo vedere Ecco Vediamo Sì Sì Ora Almeno da come completato Va bene Sono spariti i nemici Ma va bene Ok Allora adesso devo Ok Dove Che cavolo è successo Allora Dove è esatto andare Ah beh di qua Ci abbiamo il viaggio rapido Andiamo qua E prendiamoci sto Attivatore mnemonico Sì sì Andiamo Se no Qui con il nomad Penso che non si può chiamare In un certo senso Così è come Se lo avessimo chiamato Visto che è qua Allora Allora Devo andare su Poi io quasi quasi Andrei a piedi Perché col nomad È un po' Difficoltoso Invece col jetpack È un po' meglio Ole Ancora Sì Ah Sarà su di lì Infatti Forse Eh no Forse Andiamo dall'altra parte Aspetta Troppo ripido qua Fede Andiamo a due metri No Vuol dire che devo Andare in una caverna Fare il giro da dietro Vediamo È solo che a piedi Vabbè Devo prendere il nomad Niente Io volevo provare A piedi Ah madonna Che è troppo In alto Vediamo Scusa la mappa Eh ma no Però da dietro Eh non è chiarissimo Appunto Capire che strada fare No perché lì Mi sa che Mi sembra troppo ripido Proviamoci ma Andare su di qua Magari no Magari mi sbaglio io Vediamo Attenzione Eh mi sa che Eh no Aspetta Forse è di là Ci proviamo No niente Non ce l'ha fatto No no È troppo ripido Ci sarà una stradina Un qualcosa Deve andare fino lì Ok Ok forse ci siamo forse vediamo vediamo se da qua riusciamo ad arrivarci dove sei ok ci siamo perfetto eccoci qua ok siamo a metà più o meno poco meno forse di metà no volevo la mappa ok oh allora questa donna l'abbiamo fatta siamo prima di tornare alla base allora andiamo di qua il fragello dei cat comandati con un misterioso straniero che ti ha inviato un messaggio radio dicendoti di volerti aiutare a combattere i cat su eus allora altro viaggio rapido se no il nomad chissà come lo prendiamo ok andiamo verso questo misterioso straniero si che ci aveva contattato come avevamo avarcato la soglia di questa nuova zona c'è stato un rumore però cosa fanno? assorbono l'atmosfera? si capisce non è fatta ma dov'è sai? beh non è proprio un gioco eh eh hanno ancora una base principale alla madonna posso farcela posso ma tu che ci stai? chi sei? never metto il mio padre ho detto che era un grande merc all i know è che mi ha dato il nome e non c'è altro non c'è stato di come a eos con Bradley's team no sono uno di Tan's scary exiles left the nexus after the uprising ben planet hopping ever since hunting cat non c'è non c'è nessuno piace la cat ma tu sembra hate them what can i say they're ugly and i'm a man so dici tu e invece tu lo sai in senso buono va bene aspetta qua ci c'è una roba che mi sa che esatto si può esaminare e così guadagno punti ricerca sì no ho già esaminato c'è un'altra no allora ok ehm distruggi un generatore energetico distruggi la caserma fine non stiamo avendo distrutto la base sono ancora qui dov'è che è? di là ok vediamo mappa ah distruggi la caserma generatore energetico va bene allora iniziamo da questo dove siete? guarda lì ok uh uh consacrato attenzione eh sono un po' scoperto in effetti guaccio no le piante vabbè qua sono sotto no mi hanno preso maledetto c'era quello là non mica l'ho visto e fine non c'è neanche una copertura eh eh dove sono? ah qua ok ho già no ok non me l'ha salvato esaminiamolo subito ok allora prima di attaccare forse da un altro fronte ma devo andare lì e se andassi sopra ci arrivo? si no dai ok vediamo oh oh attenzione uh ok consacrato è andato ok maledetto ok è andato attenzione no ho preso ho preso ok mi ha messo giù la torretta però il cavolo perfetto dov'è pb ah ok ma che strano rumore ok devo andare lì eh si vede nazza non esaminate queste no tenitore terminale vai speriamo non arrivi nessuno rack perfetto perfetto ok ok eh mica saranno tutti questi no adesso bisogna andare là e lui taurg ah vabbè questo debole bene oi ma ah ma non combatto non scappano ah no perché non ero vicino ok ah un altro uh ne arriva un altro aspetta ok ne lasciate qualcosa va bene allora dov'è il macco qua ok allora torniamo dentro andiamo là l'avevo già vista quella struttura ma non ci sono entrato qua c'è anche una stazione avanzata mi ricarichi tutto se passo di qui si ok va ma da dove son passato no oh aspetta cosa ha detto che non ce ne sono tanti ho qualche dubbio no buca ah ci sono quelli invisibili aspetta che porca vacca quello vediamo se riusciamo a farlo fuori da qua ma dubito ma dubito che non si espone dai cazzarola cazzarola ecco poi c'è questo da fastidio aspetta aspetta che strane granate però sono belle da vedere ok sa che non ha più lo scudo anche se è invisibile il maledetto infatti ah è drac è andato fino in line alto vado anch'io andiamo tutti su è sempre un po' buio come si entra ok è rimasto solo uno ma è consacrato di prima questo maledetto ok infatti eh parla con Bane ah ok c'è niente qua tentore eh poi quando andrò sul nexus devo fare un bel po' di vendita oggetti barra acquisto nuove robe insomma anche perché penso di aver raccolto un bel po' di roba qua terminale riproduci è morto infatti si faceva esperimenti sugli umani bastardo allora torniamo dal nomad ok andiamo ok devo tornare da Bane Brain insomma come si chiama faccio una capatina qua così mi ricarico tutto perfetto perfetto sì esatto è esatto a Bane scherano vabbè grazie per la dritta più che altro ma pensa a te ok la missione è completata benissimo senti di livello abbiamo 12 punti allora potenzierei visto che l'abilità sconosciuta non ce l'abbiamo ancora ma io sto andando piano anche con la storia visto che devo fare tutta sta roba allora quasi quasi potenzio la torretta visto che eh sì dai diamoli più 50% salute ok basta solo questo va bene ah poi aspetta aspetta a vività 100% ah pensate ma qua c'è altro da fare però eh aspetta però che io volevo potenziare anche drac 3 punti potenziamoli il cannone flak ok e poi a pb 2 punti beh non possiamo fare nulla a parte invasione che non mi interessa quindi niente pb li otteniamo così va bene no mappa ok ok andiamo qua a prendere a recuperare un altro drone qua vicino adesso non so in teoria cioè appunto avessendo tutto vivibile al 100% forse non so non sarebbe più bisogno di fare tutte queste missioni ma io volevo esplorarlo tutto aspetta non trovo il luogo giusto di qua di qua di qua eccolo qua ok scansioniamolo perfetto ottimo altro drone in salvo per così dire e ora siamo qua di farci questa parte qua in alto non è che è rimasto tantissimo stazione avanzata si 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 va bene andiamo prima la stazione avanzata poi vedremo il resto di qua Grazie a tutti.